A Verbi Caro vince la protesta e la voglia di rinnovamento. Il risultato del voto delle elezioni politiche 2013 parla chiaro. Il Movimento 5 Stelle è il più votato del borgo altotirrenico. Questa era una protesta in quanto già da tutte le situazioni si sapeva che ormai tutte le persone si sono stangate di vedere i vecchi politici. Ci vuole un cambiamento in politica e questa è la dimostrazione che tutti vogliono un cambiamento ai vertici della politica. Basta con tutte queste situazioni, con questi vecchi politici. Siamo arrivati in una situazione critica. Nessuno ha parlato di lavoro, nessuno ha fatto proposte nuove per crescere. Noi abbiamo bisogno di questo e per questo penso che abbia vinto il Movimento 5 Stelle. È successo quello che è successo in tutta Italia. È un fenomeno da analizzare, da valutare. C'è un forse di senso nei confronti di una classe politica di dirigenti di partite di vecchio stampo che non hanno capito che bisogna stare ancora in mezzo alla gente, parlare il linguaggio della gente. Tutto questo poi ha portato a un fenomeno legato alla dinamicità di Grillo che ha parlato il linguaggio che la gente voleva sentire. Una bocciatura netta nei confronti della vecchia politica e dei candidati locali, in particolare verso la rivoluzione civile e il PD. Non ho mai pensato che la lista Ingroia potesse vingere il primo partito, però pensavo che almeno potesse raggiungere il quorum in quanto nel programma di Ingroia ho visto che ci sono importanti punti.